Paolo, una sconfitta che brucia e che mette un punto a quelli che erano i dieci risultati utili consecutivi. Cosa è mancato oggi al Frosinone? Prima di tutto ci dispiace perché volevamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine per recuperare il risultato, non ce l'abbiamo fatta. Oggi è stata una partita particolare, abbiamo perso due giocatori al primo tempo, abbiamo cambiato tanto e siamo un po' disuniti in alcune parti di gara, però credo che l'impegno e la determinazione l'abbiamo messa fino in fondo. Abbiamo fatto qualche errore che ci è costato caro. È un peccato perché potevamo fare di più sicuramente. Le due sostituzioni al primo tempo secondo te hanno influito un pochino la gara? Sì, sì, ma non perché chi è entrato non ha fatto bene, anzi chi è entrato ha dato come sempre il suo contributo, però ovviamente abbiamo preparato la partita in una certa maniera, abbiamo dovuto cambiare un po' modulo, un po' atteggiamento e abbiamo messo un po' a capire come muoverci e quello sicuramente ha influito. A tuo avviso è un risultato giusto quello che è maturato e che si è visto oppure secondo te magari c'è qualcosina da recriminare? La Serenitana sicuramente ha fatto una buona partita, non ha demeritato, poi se andiamo a vedere le occasioni ci sono stati 3-4 palloni, veramente oggi sembrava quasi stregata la porta. È un peccato perché insomma potevamo sia andare in vantaggio che poi pareggiarla quando stavamo 2-1, però niente, ripartiamo, sappiamo, conosciamo la nostra forza, non dobbiamo demoralizzarci, continuare sulla nostra strada, che è quella che abbiamo intrapreso nelle ultime partite e andare avanti così. A fronte degli altri risultati, non so se hai avuto dare un'occhiata ai risultati soprattutto delle squadre che stavano all'intorno a noi, abbiamo perso un'occasione? Sì, sì, ma purtroppo sono già tre partite che perdiamo occasione perché anche le altre ci stanno aspettando, vorrà dire che sarà un campionato molto equilibrato fino alla fine. Da dove si riparte per Trapani? Ripartiamo da quello che sappiamo fare, non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo sempre allenarci con grande entusiasmo come stiamo facendo nelle ultime settimane ed essere tranquilli perché i risultati arriveranno.